Si è concluso nei giorni scorsi il restyling della struttura del parcheggio del Tribunale, dove è stata rivestita la maglia metallica esistente con una superficie verde. Lo scopo è finalizzato ad assorbire l'anidride carbonica, migliorare la qualità dell'aria, rilasciare costantemente ossigeno e mantenere l'ambiente interno più fresco. L'assessore all'urbanistica Martina Toffolo. Siamo al parcheggio del Tribunale e presentiamo alla città il progetto Cripper. È stata l'iniziativa di Acquanova che ha promosso questa progettazione, che ha coinvolto le scuole superiori e che ha visto la scelta ricadere sul progetto di Natasha, che ha proposto il mascheramento del parcheggio con una struttura verde. La banca BCC ha finanziato l'operazione ed è da un anno che è stata installata. Perché siamo qui dopo un anno dalla sua installazione? Perché ora ha attecchito ed è diventata patrimonio dell'intera città. Abbiamo un progetto fatto da una ragazza, promosso da un'associazione, finanziato da una banca locale, che viene donato alla città intera. Quindi secondo noi è un gran risultato. Natasha Masuli, studentessa e vincitrice del progetto per la realizzazione dell'opera, ci racconta come è nata l'idea. L'idea nasce dal voler mitigare l'impatto che ha questo parcheggio rispetto al centro storico e al parco fluviale del Noncello. E quindi ho pensato di rivestire il parcheggio in modo da integrarlo il più possibile con la natura, l'ambiente. E mi sono informata e ho visto che c'era questo architetto francese, Patrick Blanc, che ha iniziato a fare questi muri vegetali in tutta Europa, sia all'interno che all'esterno, in strutture portanti e non portanti. Quindi mi sono informata e poi con l'architetto Guido Lutman abbiamo cercato la soluzione che poteva adattarsi di più al parcheggio.